Buongiorno, siamo qui al Donati di Fossombrone e abbiamo appena concluso un incontro insieme alla dottoressa Rezai sull'educazione sessuale. Quali sono le forme di contraccezione? Le forme di contraccezione sono due, sono quelli naturali e quelli artificiali. Quali sono quelli maggiormente usati dai giovani? Dai giovani, se intendi per l'età adolescenziale, noi di solito raccomandiamo i metodi ormonali perché sono sicuramente quelli più efficaci. Mentre per quanto riguarda, dipende dall'obiettivo, mentre per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmesse sicuramente il preservativo occupa il primo posto. Quali malattie si possono prendere senza le precauzioni? Per le malattie, penso che intendiate le malattie sessualmente trasmissibili. Sicuramente le infezioni tipo le infezioni batteriche e virali sono le malattie più frequenti. Tra le malattie batteriche possiamo elencare sifilide, gonorrea e tante altre che comunque sono di minore importanza però possono compromettere l'attività sessuale, mentre quelle più importanti sono le malattie virali tra le quali sicuramente occupa il primo posto l'HPV per la quale abbiamo anche prescritto abbiamo istituito proprio la vaccinazione. Poi le epatiti, l'HIV e tante altre però magari di minore importanza, però sicuramente queste non sono da scherzare. Che messaggio dai ai giovani per una corretta vita sessuale? Il messaggio che darei ai giovani per una corretta vita sessuale è sicuramente di salvaguardare la salute del sesso nel senso di usare sempre la testa mentre si fa il divertimento con il sesso per cui di non scindere mai l'aspetto della salute dall'aspetto ludico per cui sicuramente quello di avere un buon dialogo con i genitori oppure con le figure istituzionali delle scuole di sapere sempre che comunque ci sono gli esperti che si occupano della loro salute fisica per quanto riguarda l'aspetto sessuale e di sicuramente utilizzare un metodo contraccettivo consigliato e studiato bene. Grazie Grazie